Va bene, ciao a tutti ragazzi io sono Dante e oggi sono qua con un nuovo episodio di Assassin's Creed 4 Black Flag Allora ragazzi intanto prima di partire io vi invito a followervi a questo canale e a passare sul mio canale YouTube Il nome del canale è nella bio del... è nella link del mio canale Twitch E poi quando siete lì io anche voi di YouTube vi invito a iscrivervi al mio canale, a guardare i miei video A mettere la campanellina e a passare su tutti i miei vari link social che ci sono in descrizione Perciò ragazzi detto il fatto in annunciato io lo dico subito, partiamo Prendete gli arpioni Che cazzo è Moby Dick che dio buono Eccolo là Forza tiriamolo su Vittoria Porca troia Prendetelo prima che rompa la cima Viene verso di noi Cazzo no Ah porca merda Cazzo è pericoloso E' là verso il tribordo Legatelo bene Prossimo tiro Edward No No Sta cedendo Sta arrivando il pesce Sordini Ho preso È il colpo Edward Ah si È sparito Qualcuno ha sentito? Tenetemi Uff Ciao Ciao Ma sta roba qua non mi dà nessun anticipo Non mi dice niente No io ci voglio provare Potrei sempre provare Adesso Posso riprovare Ora ma Ci sono andato vicino Però Non è che devo resistere A più di tre colpi Pronti ora Legatelo bene Sta tirando Edward Ah si Sta cedendo Preso Sta cedendo Peccato Ah si Prendetelo Prima che rompa la cima Il mare è tutto sangue La bestia è ferita È sparito Ah Pazienza Pazienza Ma Che ne faccio È un pezzo pericoloso Devo anticipo Ho capito comunque come si vede Ora è in vista Ora è in vista Abba bordo Sì No l'ha mancata Cazzo Cima legata Edward Ora legate Uomini Legato No È il colpo Edward Preso Preso È il colpo Edward Attenti Non inguaggia capitano La bestia è ferita È il colpo Edward Il mare è tutto sangue Ha strappato la cima Non vedo nulla La città resiste 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 Forza Tiriamolo su Dai Abbiamo Come abbiamo finito Gli arpioni Non ci sottiamo Alla nave amici Ma scusami Non ci succederà ancora Non ho capito Ma gli arpioni massimi Pronti con le lance Gente Io ce li provo Ma oh Sì Sì No sprecati due Però Oh sì Madonna Che questo è un mostro Cazzo Più grosso della nave Mamma mia Va bene Bene Ragazzi Io concludo qua Questa live Questo video Io ringrazio tutti voi Di essere passati Vi ringrazio Mi della compagnia Io spero che Il video vi sia piaciuto E vi do appuntamento Alla prossima Con un altro episodio Di Assassin's Creed 4 Black Flag E comunque Vi invito a passare Sia sul mio canale Twitch Che sul mio canale YouTube I link Sono tutti nella bio Nella descrizione E anche sui miei social Vi invito Vi invito comunque Su YouTube E se è su Twitch A iscrivervi A mettere la spuntina Per le notifiche E se vi va Su YouTube Mettete un like E lasciate un commento Se vi interessa Lasciare Un Un Un'opinione O Un suggerimento Per un gioco futuro Ciao a tutti raga Alla prossima